il paradiso e come dice la scrittura è il luogo che Dio ha preparato per coloro che lo amano chi è Papa Francesco che abita dentro al paradiso? Non è un posto, è un stato di vita e di contemplazione, il paradiso è vivere in questo stile che mi fa contemplare Dio, la Madonna, la gente in pace, in gioia, è la gioia, è quello che noi stiamo cercando ogni giorno, la gioia, la felicità. Ma davvero per entrare lì basterà aver dato un bicchiere d'acqua a chi aveva sete? Io ci credo, perché i bilanci di Dio sono bilanci non aggiustati e tante volte… C'è un consiglio di amministrazione strano a Dio per fare il giudizio finale? Dio la pensa diversamente perché è malato… 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 Grazie.